Alessandro Angelini, terza grafica, cosa ha proposto qui di Roald Dahl? Ho preso il capitolo a proposito di maiali, che parla di questo ragazzo che scopre che la carne di maiale alla fine è la carne umana. Dovevamo andare a pochi metri da qua che c'è la macelleria, qua dietro l'angolo. Eh appunto, infatti dopo viene preso anche lui come i maiali qua appesi e viene portato al macello.